la tua missione metti l'altra mano, ora esci in questa mano, afferrati da due ma a questa mano, afferri e vedi si è possibile, ho pure la fella in un'altra volta ma al solito e prima 1 1 2 3 4 5 6 6 6 8 9 10 10 11 12 12 13 12 14 15 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 Non, non, ti è l'outil. Ti è l'outilà.